salve a tutti signori e bentornati sul mio canale per questo secondo appuntamento di avido legge cose e torniamo sul palazzo delle ombre andiamo oggi ad affrontare il secondo scusate se l'audio un po strano ma ho cambiato microfono ditemi voi com'è come si sente quindi un microfonino usb per provare a fare i video un pochino più professionali allora oggi andiamo a leggere la seconda parte di del palazzo delle ombre un secondo estratto che va a presentare un altro dei tre personaggi principali quindi andiamo a conoscere oggi un detective e quindi ci immergiamo un pochettino di più in quello che è l'atmosfera thriller come vi ho annunciato nella prima volta quindi oltre al fantasy l'atmosfera thriller il fantasy ancora non lo abbiamo conosciuto perché abbiamo avuto un incipit in cui c'era norman che è uno dei personaggi che casualmente essendo sembra sembra dall'incipit un personaggio molto sfortunato che non ha un granché eredita una cifra esorbitante tipo 40 milioni di euro e e dei palazzi in centro a roma ora invece ci spostiamo con un detective che va a interrogare un un testimone di un omicidio quindi in qualche modo iniziamo a entrare un po' nell'atmosfera thriller non vi dico altro vi faccio ascoltare questo capitolo e poi mi dite cosa ne pensate secondo brano ritrovamento del primo cadavere il capitano donai si sveglia ogni mattina alle 5 si prepara un caffè dalle 5 e mezza e per un'ora circa si dedica all'attività fisica che può essere jogging alcune flessioni pesi e addominali anche un'ellittica da casa che gli consente di allenarsi a un ritmo elevato cosa a cui tiene moltissimo non si tratta solo della ricerca di un gusto estetico ma è il ricordo dei problemi di peso avuti da ragazzo che gli suggerisce di non rilassarsi altrimenti il suo fisico potrebbe tradirlo di nuovo ogni mattina alle 7 e un quarto si è già fatto la doccia e la barba e si accinge a fare colazione alle 8 precise è in ufficio pronto per iniziare la giornata lavorativa alcune mattine è impossibile rispettare la sua precisa tabella di marcia specie se bisogna intervenire sul campo per un'emergenza oggi è una di quelle comandi capitano abbiamo delimitato la zona e siamo in attesa del medico legale e dei ris per il buon di viviani chi è la vittima è una giovane donna non ha documenti con sé bianca capelli lunghi e biondi magra vestita bella molto bella fa sempre effetto sempre se la guarda bene pare stia dormendo e invece ci siamo noi a raccoglierla chi l'ha trovata siamo intervenuti su segnalazione del signor roberto berardi che era qui in giro con il suo cane signor berardi ancora in zona si è lì seduto abbastanza scosso e ti credo ci hai parlato sì mi sono fatto dare le generalità gli ho chiesto la dinamica del rinvenimento che te ne pare stava facendo il solito giretto mattutino con il cane nulla di più capisco vado a parlargli e sento cosa da dire mi trovi in zona per ogni evenienza prima di raggiungere il signor berardi si dirige verso il luogo in cui versa ancora il cadavere sta vivendo in un intimo terrore che cresce a ogni passo non può essere lei non deve essere lei giovane è bella e solo il colore della pelle lascia intendere che non si è più in vita c'è della grazia in quella scena ma è una naturalezza forzata nessun cadavere trascinato dalla corrente si sarebbe incagliato in quel modo è come fosse un set fotografico in cui vari elementi sono funzionali alla resa dello scatto la scena del ritrovamento lo preoccupa filippo non sa cosa sia accaduto alla ragazza osserva solo l'effetto finale non c'è violenza né sofferenza ma solo ricercata eleganza non crede più al caso ormai da diversi anni tuttavia ogni tanto ancora lo invoca spera che tutti i pensieri figli del suo spirito di osservazione della sua esperienza siano una mera casualità per quanto singolare perché se mai fosse confermato l'omicidio sarebbe solo l'inizio di una serie passo dopo passo l'inquietudine aumenta conosce quei capelli biondi e quell'incarnato sente lo stomaco restringersi ancora un passo e scorgia il viso gli manca il fiato per un istante poi torna a respirare non è lei scrolla le spalle distende il collo per stemperare la tensione poi si avvicina al berardi buongiorno sono il capitano donati il signor berardi buongiorno capitano si sono io roberto berardi passeggia spesso da queste parti si abito qui dietro e avendo il cane mi capita spesso di girare proprio qui forse non ogni giorno ma di sicuro più volte alla settimana capisco senta so che ha già parlato con il maresciallo poco fa ma le chiedo di raccontarmi come ha trovato il cadavere guardi in realtà è stato blitz a trovarlo dice berardi con la voce tremula va bene guardi in realtà è stato blitz a trovarlo dice berardi con la voce tremula va bene che faccio chiedo a lui donati cerca di stemperare la tensione per mettere a proprio agio il testimone e in effetti funziona i due sorridono berardi si distende un po recupera lucidità e ora parla con dovizia di particolari tra le altre cose racconta di non aver mai visto un cadavere da vicino e che la donna sembrava aggrappata agli arbusti e fino all'ultimo ha creduto fosse ancora viva eccoci qua tornati sul sul mio canarone cosa ne pensate a parte della mia lettura cosa ne pensate di quello che avete ascoltato è vero che è poco serve solo per darvi un assaggino di quello che è la scrittura dell'autore e secondo me è molto molto fluente e molto bella soprattutto perché è all'italiana che è una cosa che non si vede molto spesso tendiamo sempre a guardare all'estero a guardare a guardare a personaggi o a scrittori americani o russi o di altri posti in italia c'è poco di questo ambito thriller fantasy tra l'altro mai sentito prima e incuriosisce anche me sinceramente sappiatemi dire mi raccomando iscrivetevi al canale mettete mi piace commentate condividete con chi volete e quando potete ditemi la vostra idea ditemi cosa ne pensate e soprattutto andate a guardare il libro che è su amazon di svevo ruggeri il palazzo delle ombre andate a guardare per vedere se vi può interessare altrimenti restate in attesa perché in questi giorni usciranno altri due o altri tre video al riguardo con altri tre estratti se vi può stuzzicare un po di più l'idea intanto vi voglio bene vi saluto ci vediamo molto presto mi raccomando ci troviamo qua per altre puntate della rubrica avido legge cose un bacione a tutti quanti mi raccomando vi voglio bene e un ringraziamento speciale agli abbonati che non è mai abbastanza ciao a prestissimo